Ciao, bentornata o bentornato. Oggi ti propongo un problema su un triangolo ottusangolo. Abbiamo infatti due lati AB che formano un angolo di 120 gradi. Questo angolo è tagliato da un segmento di bisettrice C, quindi divide l'angolo in due angoli da 60 gradi. Si chiede di calcolare C noti A e B. Se vuoi pensarci metti in pausa perché tra un attimo parte lo svolgimento. Ok, ti mostro come l'ho risolto. Se hai trovato altri metodi li puoi scrivere nei commenti al video. Allora, io sono partito dal vertice di uno degli angoli acuti, ad esempio quello di destra, e ho tracciato la parallela alla bisettrice C. Poi ho prolungato l'altro lato A fino a incontrare la parallela in un punto. Si può dimostrare facilmente che questo triangolo così formato è equilatero. Infatti, quest'angolo vale 60 gradi perché tutti e tre formano un angolo piatto, quindi la somma deve essere 180. Poi anche questo è di 60 gradi, in quanto qui abbiamo due parallele tagliate da una trasversale. Quindi questi angoli sono alterni interni e quindi devono essere congruenti tra loro. Infine, dato che la somma degli angoli interni di un triangolo deve essere 180, anche l'ultimo sarà di 60 gradi. Quindi posso porre uguale a B tutti i lati del nuovo triangolo, che è equilatero. Ora basta osservare che il triangolino a sinistra è simile al triangolo grande completo, perché gli angoli sono congruenti a due a due. Questo è in comune, questo è di 60 ed è congruente a quest'altro che è di 60. E anche gli ultimi due angoli sono congruenti tra loro perché i due lati sono paralleli. Possiamo quindi scrivere una proporzione tra i lati, per cui A sta a C, come A più B sta a B. Ricordando che il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, si ha che C per A più B è uguale ad A per B. E quindi portando A più B a secondo membro si ottiene il risultato cercato, ovvero che C è uguale al prodotto dei lati fratto la loro somma. Se vuoi guardare altro puoi cliccare sul riquadro a sinistra, troverai altri problemi di geometria simili a questo. Oppure al riquadro al centro ci sono problemi di logica matematica di varia natura. Infine sul cerchio a destra per visitare il mio canale ricco di materiali di matematica e fisica. Ciao e grazie.